Buon pomeriggio a tutti, siamo tra le due conferenze previste nel pomeriggio di oggi. Abbiamo già avuto modo di ragionare sulla parte più direttamente storica, quella che ci ha consegnato un po' le vicende del 25 aprile del 1945, con una riflessione sui partigiani e con una riflessione sulla lotta di liberazione. A breve comincerà il secondo dibattito pomeridiano, il cui scopo è quello di attualizzare questi principi di libertà e di resistenza che ci ha lasciato il 1945 e le vicende immediatamente successive, attualizzarle ai giorni nostri per capire il significato che oggi hanno per noi queste parole. Grazie.